Continuità e Futuro è una lista che vuole raccogliere il testimone di 5 anni di buon governo. Giovani competenze per realizzare progetti concreti e cantierabili, intercettando le esigenze dei monbaroccesi. In collaborazione con le associazioni di tutto il territorio del comune, crescita sulle scuole, sui servizi sociali, sui servizi sociosanitari, impianti sportivi, ambiente e cultura. Cultura e Turismo, noi siamo il nuovo, gli altri sono il passato. Voglio portare avanti 4 punti fondamentali del nostro programma. Prima di tutto partirei dalle scuole perché il futuro è nella scuola e quindi nei giovani. La scuola per la quale abbiamo appena intercettato un contributo da parte della regione di 1.400.000 euro per la messa a norma antisismica della nostra scuola. Non è immediato e non è automatico avere un'amministrazione che poi sia in grado di fare avvenire questo progetto e di portarlo a termine. Quindi noi abbiamo le competenze per fare questa cosa. Poi voglio parlare di sanità. Sanità a 360 gradi. Quindi dall'ex briciotti e alla residenza protetta per la quale vogliamo un miglioramento e un potenziamento. Così come vogliamo un ampliamento e un miglioramento dell'ambulatorio che al momento si trova sotto l'asilo di Villagrande di Monbaroccio e per il quale abbiamo già identificato una nuova dislocazione sempre a Villagrande di fronte alla farmacia. Poi voglio parlare di sport e di ambiente. Questo con fuoco i giovani. Soprattutto il campo da calcio originale. Così come il potenziamento delle piste polivalenti che esistono in tutte le frazioni del comune. Poi un borgo plastic free e con una qualità di vita particolarmente elevata. Ultimo ma non ultimo è sicuramente il turismo e la cultura. Un binomio inscindibile soprattutto per un comune piccolo come Monbaroccio dove una figura come quella di Guidobaldo del Monte può essere un volano per il turismo e per la cultura in compartecipazione sicuramente con tutte le associazioni che si trovano sul territorio. Quindi puntare su questo.